Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con Bookstore. Oggi in questa puntata parliamo di attualità, attualità politica e economica, di una crisi sociale, economica ma soprattutto politica nella quale siamo da anni e vedremo molte delle ragioni di questa crisi, perché ci siamo finiti e perché potremmo uscirne. Allora saluto innanzitutto Michele Ainis con il suo privilegium, l'Italia divorata dalle lobby per Rizzoli, saluto Roberto Napoletano con Pro Memoria Italiano, quello che abbiamo dimenticato, quello che dobbiamo sapere e quello che dovremmo fare soprattutto. E saluto Giuseppe Mammarella con l'Italia di oggi, storia e cronaca di un ventennio, 1992-2012 per Il Mulino, Napoletano invece ha scritto per Rizzoli, non mi ricordo se l'ho detto precedentemente. Dicevamo, sono tre libri che trattano da punti diversi di una crisi che è quella comune. Secondo il professor Ainis la crisi italiana, che appunto non è solo la crisi di questo momento storico e particolare che viviamo, ma è una crisi che viene da lontano e deriva soprattutto dall'affermazione del privilegio, non è solo l'Italia, non è solo la politica sotto accusa, ma le caste che rappresentano altrettanti privilegi, che rappresentano perdite di libertà per gli altri. Io lavorando su questo libro, aiutato da un gruppo di ricerca, man mano che mi arrivavano questi faldoni sulla scrivania, mi ci arrabbiavo via via sempre di più perché ne ho scoperte di cotte e di crude, questo è un libro pieno di numeri, di cifre, perché i privilegi li puoi quantificare. Riguardano un po' tutti, l'Italia è un po' diventata una fabbrica delle diseguaglianze, cito un solo dato. Mettendo le mani dentro una banca dati legislativa e chiedendo, interrogando la banca dati per parole chiave, tranne a eccezione, speciale, inderoga, derogatorio, ti vengono 63 mila risultati. Cioè noi abbiamo in circolo 63 mila norme, legislative, regolamentari, regionali o statali, che costituiscono altrettante eccezioni a una regola, quindi la regola non c'è più perché se la deroga prevale sulla regola è la deroga che si è convertita in regola. L'ordinamento normativo quindi riflette, che cosa riflette? Riflette una società frastagliata in cui ciascuno, diciamo così, è contento del piccolo grande privilegio che tocca alla propria categoria, ci metto pure quella a cui appartengo. Che è professore universitaria, che è un costituzionalista. Dopodiché insomma non si rende conto che la somma dei privilegi altrui determina un danno superiore al tuo vantaggio. Quindi diciamo noi siamo in questo momento impegnati, in questo momento da qualche anno direi, in un esercizio collettivo di tiro a segno verso la casta dei politici. Ma se da questo pensiamo di poter avere la prova della nostra innocenza collettiva, poi per carità ci sono mille malefatte dei politici e della politica, ma questo non ci rende innocente, non ci salva l'anima e abbiamo bisogno, forse anche come il libro del direttore napolitano indica. Abbiamo bisogno di voltare lo sguardo all'indietro per poi rovesciarlo in avanti. Ma certamente, non troppo indietro, non alla società feudale da cui prende le mosse questo regime. Da cui forse si è originato tutto questo sistema che poi si è ben collaudato negli anni. Roberto Napoletano, che per chi non sapesse è direttore del Storio 24 Ore, diciamo questi sono una serie di appunti, possiamo dire appunti di viaggio, che con la testa all'indietro, non al Medioevo, ma a un'Italia che magari veniva dalle macerie del dopoguerra, che erano macerie reali e che si rimboccava le mani, come spesso si dice per un'espressione magari usata anche troppo. Però hanno ricostruito personaggi che hanno ricostruito il paese dalle fondamenta, dando poi vita al boom economico, al benessere. Poi però a un certo punto questi personaggi non si trovano più. Io voglio dire che la prima cosa che ci terrei a chiarire è che il libro è una raccolta che almeno nella mia mente sono dei piccoli racconti. Questa rubrica che ho sul Domenicale, memorandum, che cosa fa? Cioè vivo la giornata, noi abbiamo dei mesi terribili, un periodo molto difficile, quindi vivendo le difficoltà del momento tu insegui fatti, situazioni, uomini, emozioni del passato e questo è importante non per trovare un rifugio del passato, ma quando io dico che ho voluto dimostrare prima di tutto a me stesso, quindi ho voluto ricordare prima di tutto a me stesso e poi agli altri, che l'Italia è un paese che ha avuto gente come Menichella, come Piscatore, come De Gasperi, come Sturzo, come Dossetti, ma ha avuto anche molto di più. Perché quello che diceva il professor Agnes prima era molto corretto del fatto che noi ci possiamo liberare la coscienza con la responsabilità della politica, ma dobbiamo renderci conto. Il libro, nell'introduzione, si conclude dicendo che noi possiamo e dobbiamo ripartire, servirà un popolo europeo senza padroni, ma serviranno soprattutto gli italiani. Quindi io suggerisco questo viaggio nel passato, non per pura nostalgia, che pure c'è, che fa bene in qualche misura, perché io stesso mi sono fatto guidare dal racconto, quindi dalla ricostruzione storica, ma per ricostruire un po' un clima. Quindi nel momento in cui tu hai un Menichella, che molti ignorano chi sia, Menichella è uno che ha fatto guadagnare l'Oscar alla lira, è uno che ha dato un signore che arrivava negli Stati Uniti, scendeva dall'albergo, firmava il presto dei 100 milioni di dollari, rientrava in un giorno. È una persona che ha studiato dividendo il letto in due a Firenze con il fratello. Questi erano gli uomini che hanno ricostruito questo paese. Però in questo libro, questo è il mio impegno, ci sono molte cose proprio di vita vissuta. Cioè ricostruire queste piccole emozioni, questi piccoli valori, che sono i grandi valori che un popolo si tramanda. Per cui viene un mio amico, un professore universitario, viene a trovarmi a Milano e racconta l'emozione che ha vissuto vedendo, assistendo a una vendita di caldarroste. Il cartoccio con le caldarroste per lui in Emilia era qualcosa di molto importante, perché lui lo comprava insieme al padre, una castagna a me, una castagna a te e si parlava. Oggi padre e figli parlano molto meno. Quando la domenica io mi sedevo intorno al tavolo da pranzo, mio padre, classe 26, ricordava gli anni del liceo e gli anni dell'università. A un certo punto tu apprendi che tuo padre per andare a scuola faceva 7 km a piedi ad andare, 7 km a piedi a ritorno e nel racconto ti trasferisce l'emozione di quegli anni, la speranza, la determinazione, il gusto della fatica, la voglia di riscatto. Il sacrificio, insomma, qualcosa che... Ecco, allora dice ma come si fa a ricostruire questa situazione oggi? Perché questa può essere l'osservazione, il contesto è differente. Attenzione, il contesto è sicuramente molto differente. Però forse, io ho detto, mancano i bombardamenti, ma ci sono le nuove macerie. Le nuove macerie sono il lavoro che non c'è, ma non solo dei giovani che è la priorità. Ma guardate il dramma che vive chi ha 45 anni, ha 50 anni, rischia di perdere il posto di lavoro o perde il posto di lavoro. C'è una crisi di identità, ci sono ferite dentro che incidono in profondità. Allora in questi momenti così difficili, penso che tutti dobbiamo avere la forza di attingere alla nostra storia. Quindi io penso che come gli italiani, io credo che dobbiamo avere l'orgoglio di aver avuto persone integerrime che hanno costruito, hanno ricostruito in pochi anni un paese agricolo e hanno fatto una grande economia industriale. Quindi quella storia che poi prosegue, perché non è che ci sono stati solo loro, ci aiuta a recuperare una certa... Poi ci sono anche storie di personaggi cosiddetti minori che però sono quelli che adesso sono una fonte di speranza, alcune figure che si incontrano nel libro. Quindi non solo grandi direttori, governatori di Banca Italia che però, come dire, sono figure che alla fine nella storia... Ma guarda, nel libro ci sono anche i ragazzi di Monterosso, c'è La Verna, cioè io personalmente penso, interrogo su me stesso, cioè che cosa ha inciso nella mia esistenza. Cioè gli anni da ragazzo, gli anni fatti, per esempio che ho vissuto a Spezia, questo gruppo di cattolico che andava a La Verna, dove San Francesco ha vissuto l'estimente, per me quelli sono un patrimonio che appartengono alla mia formazione e io credo che come me tanti hanno vissuto queste emozioni. Quindi ci sono sentimenti, come dire, che vanno vissuti sempre con pudore, perché è importante, ognuno ha la sua storia e ogni storia va rispettata, ma che, voglio dire, lì si raccontano i sogni di Fellini, il realismo di Edoardo, la Ciociara. Lì io un giorno vado all'auditorio e mi vedo il figlio di Ponti con la moglie di fronte, Sofialone, che racconta tutte le esitazioni di questa donna che doveva, come dire, rappresentare, recitare la parte di Cesira, cioè la parte di una donna che aveva una figlia già abbastanza grande e scappava sotto le bombe, tra le macerie. Era un ruolo difficile per una donna così giovane. Il trasporto, la stima del marito hanno spinto questa donna a svolgere bene questo ruolo. Allora, in quel film c'è un paese, un paese che soffre, ma non disperato. Ecco, bisogna recuperare, diciamo, la capacità che in varie stagioni abbiamo avuto, che poi abbiamo un po' disperso, di non spaventarsi mai e anzi di, come dire, affrontare la difficoltà. Ecco, se una cosa posso dire, concludo, evitare le scorciatoie, cioè perché le scorciatoie ti danno l'illusione di un momento, ma non ti danno, come dire, l'uscita dal problema. Poi naturalmente ritorneremo su questi temi. Siccome dobbiamo andare in pubblicità, il professor Mammarella, torniamo subito dopo. Allora, il professor Mammarella, non l'abbiamo trascurata nel primo blocco, ma adesso siamo da lei. Lei è un professor di storia contemporanea e in questo libro fa la storia di questi vent'anni che sono alla fine vent'anni persi, perché passiamo dalla fine, dalle macerie, per tornare all'immagine di Roberto Napoletano della prima repubblica, dalle quali si pensava venisse fuori un'Italia migliore, alle macerie di questa seconda repubblica, che di fatto è finita. Certo. Questo è un libro che è nato circa un anno fa, quando io stavo rivedendo un mio vecchio libro, l'Italia contemporanea, che è un libro abbastanza frequentato nelle università, e mi è venuta la necessità, direi quasi l'urgenza, di approfondire questi venti anni. Che sono venti anni? Sono stati venti anni di speranze, soprattutto a partire dagli anni del 92, 93, 94, quando dalla crisi di Tangentopoli si sperava la nascita della seconda repubblica, una seconda repubblica che avrebbe dovuto, per la prima cosa, riformare la Costituzione. In Francia le repubbliche vengono contate secondo le Costituzioni, la Francia è arrivata alla quinta Costituzione. Invece non solo non c'è stata la revisione della Costituzione, ma direi che dei due progetti politici che hanno caratterizzato questi venti anni, cioè il progetto politico del centro-sinistra, quello di riportare l'Italia a un paese normale, no? Faccio riferimento proprio a una frase di D'Alema del 95, ci fu addirittura una specie di manifesto, l'Italia normale. E invece l'altro progetto politico, che è quello legato al nome di Berlusconi, che è quello della rivoluzione liberale. Ebbene, dopo venti anni dobbiamo arrivare alla conclusione che questi due progetti politici sono due falliti, per tutta una serie di ragioni, qui magari si può esaminare, se ne può discutere. E adesso il problema è quello di creare un nuovo itinerario politico. E siamo di fronte, perché vedete, la crisi italiana questa volta non è più come nel 92, una crisi di un paese isolato, cioè è parte di una crisi molto più generale, è parte della crisi internazionale, che riguarda non solo il mondo occidentale, ma riguarda un po' tutto quanto il mondo, perché anche i paesi che dovevano portare un contributo al rilancio dell'economia sembrano attualmente in crisi. Quindi si tratta di ricostruire un itinerario. Anche quella del 92 cominciava, anche la crisi del 92 comunque... Sì, ma erano crisi episodi, erano crisi storiche che sono state tipiche della Seconda Guerra Mondiale in poi, ne abbiamo avute tante, si concludevano nell'arco di due anni, due anni e mezzo, ecco voglio dire, e poi non facevano troppo male. No, questa invece è una crisi epocale, è un altro tipo di crisi. È una crisi che ci porrà il problema di rivedere il nostro sistema di vita, oltre che il nostro sistema politico. E quindi questo è il problema adesso, creare un nuovo progetto politico che può essere o quello dei tecnici se vogliamo, oppure quello di un ritorno alla politica, a condizione però che la politica non sia fine a se stessa. Perché intendiamoci, la politica è importante soprattutto come guida alla società, quindi il centro dell'attenzione non deve essere la politica, deve essere la società. La politica deve essere strumento per il rilancio della società. E quindi ci sono tutte le incognite che questo progetto, questo terzo progetto può implicare. Ci nasce con più incognite, secondo lei, questa, chiamiamola terza repubblica, comincia con più incognite rispetto alla seconda. Certo, non c'è dubbio, perché ci sono, come dicevo prima, oltre alle incognite nazionali, anche quelle internazionali. E penso che qui il problema si porrà anche su altri piani, non solo sul piano esclusivamente economico, ma su una serie di piani che riguardano tutta quanta la società. Il nostro modo di lavorare, il nostro modo di vivere, di consumare, il nostro modo di guardare al futuro. Questo è molto importante. Sono d'accordo che non bisogna dimenticare il passato e qualsiasi rinnovamento deve avere le radici nel passato, ma però dobbiamo soprattutto proiettarsi nel futuro, perché se c'è una critica, tra le molte, che si può fare alla nostra classe politica, è quella di non avere previsto il futuro. Dico, del declino del Paese si parlava già negli anni 90, quindi 20 anni fa. Sì, poi tra l'altro leggeremo dopo un passaggio in cui le situazioni sembrano assolutamente identiche. Invece volevo leggere un passaggio del libro di Michele Ainis, in cui lui dice che per sbloccare il Paese servirebbe una riforma, tuttavia il potere delle corporazioni blocca ogni riforma, sicché non resta che la rivoluzione pacifica, ordinata, ma senza dispense né indulgenze, senza salvacondotti per i vecchi vassalli e valvassori. Poi lei propone una sorta di Camera dei cittadini per... Ah sì, anche, però mi rendo conto che quella è una parte visionaria di questo libretto che non verrà mai realizzata. Sono però assolutamente convinto che abbiamo bisogno non dell'aspirina ma del chirurgo, cioè di riforme incisive e radicali. Il problema è chi farà queste riforme, perché poi alla fine ogni... a parte ovviamente lei tratta molto il tema delle liberalizzazioni e di che fine hanno fatto tutte le volte che sono state proposte da vari governi, compreso quest'ultimo. Compreso questo. Ma io, insomma, senza rubare il mestiere agli storici, però se mi guardo indietro noi siamo vittime, vittima di una sorta di sindrome del ventennio, una volta l'ho pure scritta questa cosa, è perché il ventennio fascista, no? A cui ha corrisposto anche una soluzione istituzionale che era il regime. Dopo si butta tutto e fortunatamente per aria si ricostituisce il paese con l'assemblea costituente nel dopoguerra e quindi con una, diciamo, democrazia anche molto avanzata. Liquidata la Costituzione, siamo nel 1947, viene però messa in frigorifero. Perché? Perché la democrazia cristiana, per esempio, non aveva nessuna voglia di far vivere le regioni che significava consegnare quote di sovranità al pc e quindi tutto va in frigorifero per vent'anni fino a che non arriva il 68. Il 68 modifica la società italiana ma coincide anche, o meglio apre, una stagione di attuazione della Costituzione e negli anni 70 la legge sul divorzio, il nuovo diritto di famiglia, quella sui manicomi, quella sulla sanità, insomma, è molto, lo statuto dei lavoratori anche quella legge del 70. E si apre quindi un altro ventennio che poi finisce con Tangentopoli perché poi tutte queste, diciamo, promesse di liberazione, questa stagione dei diritti di nuovo viene tradita. Con Tangentopoli che cosa accade? La fine della Prima Repubblica che però non è accompagnata dalla fine della Costituzione scritta, per fortuna, però si scarica questa su una Costituzione materiale, su forme di democrazia immediata, talvolta anche prebiscitaria, cioè gli italiani hanno immaginato di eleggere direttamente i loro governi, i loro Presidenti del Consiglio e quindi apriamo quest'altro ventennio che oggi vediamo tutti che è finito. Non sappiamo che peraltro questa legislatura che doveva sancire la definitiva affermazione della Seconda Repubblica perché poi in realtà il centrodestra aveva dei numeri altisonanti in Parlamento, invece si chiude con una rivincita della democrazia parlamentare perché in Parlamento cade il quarto governo Berlusconi, in Parlamento si determina un nuovo governo. Allora noi speriamo tutti che possa aprirsi una terza Repubblica, adesso chiamiamola come ci pare, comunque dovremmo girare pagina e sappiamo, perché l'esperienza questo ci dice, che a ogni cambio di diciamo ogni ventennio poi c'è un cambiamento di forze politiche diciamo al governo ma anche di soluzioni istituzionali e qui veniamo ai punti della nostra società per quello che è diventata. Io credo che servono più controlli, lo diceva poco fa il direttore e questi controlli però devono essere affidati ai cittadini. Credo e spero, vedo che c'è una energia in circolo e spesso questa energia viene definita antipolitica ma invece è una voglia di prendere parte, di sedersi al tavolo della politica, ha bisogno di essere però accompagnata con anche una iniezione di democrazia diretta che significa poteri di decisione e di controllo senza filtri, senza deleghe, senza mandati al parlamentare che poi mi buggerà. Non è che è un po' simile a quello che dice il Movimento 5 Stelle, per qualche verso, la democrazia diretta? Io credo che questo è un fenomeno in realtà mondiale, la rivoluzione araba è nelle piazze arabe, Occupy Wall Street significa anche questo, c'è in questo momento una crisi dei parlamenti in tutto il mondo, io non credo che noi dobbiamo sbarazzarci della democrazia rappresentativa, però siccome nessuno può camminare bene su una gamba sola, allora l'altra gamba che è quella della democrazia invece diretta deve essere rafforzata, ci sono degli istituti di giuntura fra democrazia rappresentativa e diretta, gli americani per esempio hanno il recall, cioè la possibilità di revocare anticipatamente l'eletto immeritevole, questo eletto può essere un giudice, può essere il direttore di un istituto scolastico o può essere il governatore della California, che se tradisce le promesse elettorali può essere revocato anzitempo con una sorta di referendum. Diciamo che in questo Parlamento sarebbe un po' difficile capire chi può revocare chi, visto che... dovrebbero essere i cittadini, allora se io ho un signore, e c'è in questo momento un signore che ha totalizzato il 97% di assenza della Camera perché c'ha di meglio da fare, però non lo posso cacciar via, io mi sento come cittadino impotente, mi incattivisco verso la politica, se avessi questo strumento raccolgo delle firme lo mando a casa, idem per chi fa il salto della quaglia, insomma i casi potrebbero essere diversi e questo non significa negare la democrazia rappresentativa parlamentare, credo che significhi rafforzarla, renderla cioè responsabile, se la democrazia è rendere conto, rendere conto al titolare della solennità, cioè ai cittadini, ecco noi questo passo dobbiamo farlo, spero che sia questo il passaggio della terza o sesta Repubblica Italiana. Non so se Roberto Napoletano pensa che possa avvenire questo passaggio in questi termini, cioè deve essere una sorta di cessione di sovranità, il problema è chi, abbiamo visto non solo le lobby da una parte, ma la politica non è mai riuscita a riformarsi, sì qualcosa è stato fatto, si è tolto soprattutto negli ultimi tempi, qualche privilegio. Il libro inizia citando una canzone di Lucio Dalla, Telefona mi tra vent'anni, i famosi vent'anni che racconta il professor Mamarello. È vero, è perfettamente, Telefona mi tra vent'anni, cito questa canzone che esprime un afficcio, cioè che non si ritrovi nel 2032, come oggi nel 2012, rispetto al 92, siamo costretti a constatare, cioè nel senso che non è vero che siamo usciti da mani pulite, cioè la situazione è realmente peggiorata, perché prima si rubava molto per i partiti e un po' per sé, quello che appare oggi è che si è rubato ancora per i partiti, ma molto anche per sé. Quindi ecco perché quando si parla di, è chiaro che poi lo strumento andrà trovato, però diciamo la crisi è di più, è di un segno più profondo, noi paghiamo, qui si racconta molto anche nel libro, ha fatto bene il professor Mamarello a citarla correttamente, la crisi che abbiamo oggi è una crisi globale, è una crisi che nasce dagli eccessi della finanza speculativa, non dobbiamo dimenticarcelo mai, dal fatto che non si è fatta una nuova Bretton Wood, che non si è voluto porre delle regole vere che controllassero questi eccessi, che si ripetono come prima, più di prima, abbiamo aperto il giornale l'altro giorno con la finanza d'ombra che ha raggiunto livelli pazzeschi e non siamo noi a lanciare l'anima, ma è il Financial Stability Board, quindi è una cosa seria, però c'è un problema che riguarda anche noi, che riguarda il nostro modo di vivere la politica, il nostro modo di vivere il nostro rapporto con lo Stato, il nostro modo di amministrare la cosa pubblica, ci sono tanti elementi che richiedono proprio un cambiamento di mentalità, ora se questo possa venire a un sistema con più proporzionale, non lo so, io credo che, diciamo, ecco perché dico pro memoria italiana, cioè l'entità della crisi che ormai gli italiani percepiscono, ma che per certi versi è ancora dura e dura, se la potessimo vedere dentro le singole persone, ci impone proprio di cambiare un pochettino il modo di vivere, ecco perché io dico che serviranno, dobbiamo essere sei non giù una settimana, ma sette giorni su sette e serviranno soprattutto gli italiani, poi servirà la politica, cioè servirà la buona politica, perché non esiste, diciamo, mondo, non esiste al mondo paese che non sia governato da qualcuno. Però questa parentesi tecnica secondo lei poteva essere sfruttata meglio? Guardi, io credo che bisogna riconoscere al governo Monti un dato molto importante che è quello del recupero di una credibilità internazionale che avevamo totalmente smarrito, ovviamente credo che tutti si ricorderanno che come giornale lo scrivo, lo racconto anche nel libro, facciamo un titolo, fate presto, a caratteri cubitali, che rimarrà un unicum, credo, che era più o meno un anno fa, di cui è un po' primi di novembre. No, però io voglio dire sempre, seppre detto, lo dico anche adesso, che quel titolo esprimeva il rigore algebrico del Sole 24 Ore, perché tutti guardavano allora e guardano oggi allo spread, quindi ai 575 punti, ma non guardavano invece a quello che era successo proprio in quei giorni, in quei giorni si era invertita la curva dei rendimenti, noi dovevamo pagare di più per collocare un bot a 6 mesi, a un anno, a 3 anni, rispetto a quello che si pagava, che lo Stato pagava per collocare un titolo a 10 anni, che veniva collocato a un tasso altissimo, quindi non sostenibile a lungo termine. Quando c'è l'inversione della curva dei rendimenti, vuol dire che i mercati scommettono sulla insolvenza di un Paese, quindi eravamo in un'emergenza assoluta. Quindi sul fallimento. Per questo è stato, diciamo, noi abbiamo detto fate presto, in quella dimensione e con quella forma. Il governo ha, diciamo, abbiamo superato il rischio più grave, non siamo fuori pericolo, questo è il concetto, e credo che anche il governo Monti avrebbe dovuto fare di più dopo l'inizio buono sulle pensioni, con quell'errore grave degli esodati, gravissimo, ma comunque una buona riforma delle pensioni avrebbe dovuto fare molto di più come attenzione all'economia reale, e credo che però per fare questo serva, come dire, anche una spinta politica, cioè bisogna che ci sia una convinzione profonda, e per questo io dico, sempre sostenuto, che serva la buona politica. Ecco, tornando al libro di Mammarella, dicevo prima c'era un passaggio che sembra scritto adesso, allora si parla del passaggio decisivo di Maastricht, quindi siamo i criteri per entrare nel club dell'euro, che allora sembravano assolutamente irraggiungibili, e quindi scrive Mammarella, i segni concreti, scelte politiche coerenti con quegli obblighi tardavano a venire. Come per inerzia il Paese continuava a vivere al di sopra le proprie possibilità, mentre la classe dirigente, occupata quasi esclusivamente nell'esercizio sempre più privato del potere delle sue logiche spartitorie, sottovalutava i primi segnali di recessione. Insomma, questa è la situazione di vent'anni fa, ma la possiamo applicare anche all'anno scorso, la storia che si ripete in questo caso. Andiamoci conto che negli ultimi vent'anni ne abbiamo avuto almeno tre di recessioni, se non mi sbaglio, senza contare quella attuale, che è la peggiore. Ma vorrei ritornare al discorso istituzionale, perché per me è fondamentale, parlavo infatti prima della necessità di rivedere profondamente la Costituzione, direi quasi che il problema è quello di una radicale semplificazione del nostro sistema politico, perché dobbiamo recuperare tutta una serie di energie, ma anche di risorse, devo dire, che soltanto attraverso una drastica ridimensionamento di questo sistema possiamo raggiungere. In effetti, durante la Prima Repubblica abbiamo avuto un sistema che era tutto quanto centrato attorno al Parlamento, che faceva comodo a tutti, faceva comodo ai partiti, faceva comodo anche all'opposizione, infatti l'opposizione è diventata uno dei grandi sostenitori del regime parlamentare. Poi adesso ci troviamo di fronte a una situazione completamente mutata, perché il Parlamento ha perso gran parte della rappresentatività che aveva, anche grazie, nonostante, anzi più che grazie, la legge elettorale. Ci troviamo di fronte a una Presidenza della Repubblica che esercita dei poteri, giustamente li esercita perché evidentemente c'è un vuoto nel centro del sistema che va colmato, insomma. Quindi voglio dire, e ci troviamo di fronte a dei partiti che non esistono più. Questo è il dato fondamentale. Il partito non esiste, il partito della Prima Repubblica non esiste più, così come era concepito come una struttura addirittura di Stato, di piccolo Stato nello Stato. Quindi lì si tratta veramente di mettere le mani e di ricreare un sistema nuovo. L'altro problema però è quello del lavoro. Io ho l'impressione che gli italiani abbiano perso un po' di quelli che gli americani chiamano gli animal spirits, cioè la capacità di imprendere, la capacità di iniziare nuove attività e nuove economie. La generazione che subito dopo la guerra ha creato il miracolo economico che, intendiamoci, non è stato il primo miracolo economico, c'è stato un altro miracolo economico, un precedente miracolo economico nei primi dieci anni del ventesimo secolo, quando l'Italia si è fatta. L'Italia di quegli anni era l'Italia che poi abbiamo ritrovato all'indomani della seconda guerra mondiale. Ecco, quella generazione che esce dalla seconda guerra mondiale, con le difficoltà, le privazioni, la voglia di recuperare il paese, beh, quell'anno che non c'è più, si è estinta tra gli anni settanta e gli anni novanta, perché è arrivata una generazione nuova. Ecco, quindi anche questo è un grosso problema. Come si fa? Beh, questo è un problema generazionale, è un problema di educazione. Non è soltanto l'educazione delle scuole, è anche l'educazione del paese. I media sono fondamentali per questo tipo di... per preparare il paese a un nuovo slancio. E allora, intanto, tra l'altro volevo chiedere una serie di cose al professor Iris, ma dobbiamo farlo dopo la pubblicità. Professor Iris, lei diceva mentre scrivevo questo libro e poi appunto i suoi collaboratori le forniva materiale, lei si indignava sempre di più, perché poi è un elenco di privilegi, appunto, lasciando perdere i politici che hanno le loro sicuramente responsabilità, forse maggiori di altre, ma non sono certi soli, ma ci sono anche tanti soldi che vengono buttati a livello centrale, magari adesso si va tagliando cose essenziali e invece ci sono detrazioni, fiscalità agevolata che vanno in mille direzioni e spesso senza un motivo vero, anzi. Ma voglio dire, per esempio ho scoperto che i servizi segreti hanno in busta paga l'indenità di silenzio, che la SIAE aveva, aveva tolto da pochissimo. Il silenzio è d'oro, insomma. Il silenzio in quel caso è d'oro. La SIAE invece, i dipendenti della SIAE, l'indenità di penna, adesso l'hanno tolta, ma da pochissimo, cioè quando sono passati al computer il calamaio, che i sindacalisti non pagano i contributi pensionistici, che i dirigenti della Banca d'Italia hanno il buono sarto, che sono altri quattrini in busta paga per potersi vestire bene. Ma voglio dire, l'elenco è infinito, anche privilegi piccoli, se tu sei ferroviere e tua moglie viaggia in treno gratis. E poi ci sono privilegi maiuscoli, quelli delle lobby organizzate, i petrolieri, i diritti che, insomma. Allora, la questione, ne citerei due. La prima è che ogni privilegio ne chiama un altro, perché se il dirigente della Banca d'Italia ha un buono sarto da 8.500 euro ogni semestre perché deve essere vestito in maniera dignitosa, perché non anch'io che faccio il prefetto, che faccio il professore universitario, che sto a contatto con il pub, che faccio il diplomatico, poi non parliamo dei diplomatici. E quindi si rincorre l'eguaglianza verso l'alto, il che crea poi una spesa che non ci possiamo più permettere, determinando in realtà nuove diseguaglianze. Dall'altra parte, uno dei tanti capitoli di questa malattia, che in questo senso è una malattia italiana, noi abbiamo bisogno di separare ciò che è pubblico da ciò che è privato. Esistono viceversa, figure professionali, il farmacista, il notaio per definizione, sono dei liberi professionisti ma anche pubblici ufficiali. E quindi sommano i vantaggi di entrambe. Sto parlando di categorie che sono abitate da persone di valore, competenti, rispettabili, non è un attacco ovviamente alla categoria. Però se in Italia noi abbiamo meno di 5 mila notai e negli Stati Uniti sono 4 milioni e 6, perché ogni cittadino con un microcorso che costa pochi dollari può fare quel mestiere, può occasionalmente vidimare degli atti, se il modello latino di cui noi abbiamo il copyright poi in realtà è minoritario nel mondo e non ha impedito gli scandali degli immobiliaristi, i guai di Ricuccio o di altri, insomma, se il guadagno medio di un notaio, su dei dati che circolano, è di, cos'è, oltre 300 mila euro l'anno. E allora questo diventa un privilegio. Questo diventa un privilegio che io credo che una vera liberalizzazione dovrebbe eliminarlo. E lo stesso accade per le imprese che sono sovvenzionate dallo Stato. Gli aiuti di Stato vengono variamente misurati, chi dice 25, chi dice 30 miliardi l'anno, ma se un'impresa dipende prevalentemente dagli aiuti, dai sussidi pubblici, è pubblica o è privata? Se un partito che è un'associazione privata, però poi si nutre di finanziamenti pubblici, idem un sindacato, abbiamo una creatura anfibbia, insomma ci sarebbe molto da fare. Il governo Monti, su questo versante c'è un deficit. In questo libro io analizzo le manovre economiche del governo Prodi, di quello Berlusconi e del governo Monti, molte buone intenzioni in partenza, molti cattivi risultati all'arrivo. Anche perché poi le lobby sono riccamente rappresentate in Parlamento dove le cose finiscono. Un'altra cosa che lei scrive è che l'ascensore sociale si è praticamente bloccato, cose che una volta, guardando all'indietro, come scrive Roberto Napoletano, c'erano figure che magari potevano crescere. Tutta la classe dirigente dopo guerra è una classe dirigente che partiva da famiglie con redditi molto bassi, che hanno molto sudato per poter frequentare l'università e quindi poi per avere un ruolo. Credo che tuttavia il problema poi dopo nemmeno da queste persone sia stato affrontato, cioè la crisi che noi sia stato affrontato correttamente, cioè il sistema che si è costruito è un sistema che non ha favorito l'ascensore sociale, anche dal primo centro sinistra in poi. Io cito sempre questa frase di Maccanico che torna dagli Stati Uniti, ha molto entusiasmo, dice alla Malfa, dobbiamo fare una battaglia per abolire il valore legale, il titolo di studio, dobbiamo cambiare questo paese, lui dice caro Torino non ti preoccupare, le 4-5 misure che hanno rovinato l'Italia le abbiamo già prese, la prima erano le regioni, il punto unico di contingenza, la sanità, non divagavo, tutte queste cose qui hanno nociuto molto l'ascensore sociale, perché nel momento in cui tu fai il punto unico di contingenza, per cui la parte legata all'inflazione che continua l'autoalimentare supera l'indennità di stipendio, cioè annulli qualunque criterio meritocratico, quando fai degli interventi, cioè tu dici noi facciamo le regioni, perfetto, facciamo perché aumenta il controllo sul territorio, non è vero, il controllo non c'è stato, cioè la tassazione è aumentata del 50% a livello territoriale ed è aumentata del 30% a livello centrale, perché è aumentata da morire la spesa pubblica e produttiva, quindi cosa significa spesa pubblica e produttiva? Significa quel posto in più che prima cercavi al ministero l'hai trovato all'assessorato regionale o all'ente controllato dalla regione e quindi diciamo il vizio si autoalimenta e quindi diventa più difficile uscirne fuori. Io volevo citare un passaggio in cui si parla di De Gasperi, tanto per parlare di quelli che hanno fatto davvero l'Italia, che era un politico di mestiere orgoglioso di esso, ci sono molti che nella politica fanno solo una piccola escursione come direttanti, altri che la consiglio come un accessorio, ma per me, fin da ragazzo, era la mia carriera o meglio la mia missione, visto che era, cita De Gasperi, e poi una citazione che ricorda quella che avevo letto prima dal libro di Mammarella, riferita al 91, oggi il decreto civile, queste sono parole di Napoletano, segna i nostri giorni con corpi e poteri dello Stato in perenne guerra tra di loro, se stiamo angosciati agli schiamazzi di una politica confusa, inconcludente e spesso, troppo spesso, motore di clientele e malaffare che continua a riempirsi la bocca con frasi del tipo, abbiamo liberato il Paese dai politici di professione, ma i politici di professione insomma avevano anche un valore, non sono quelli che non hanno mai lavorato. Mi fa piacere che sia stato sottolineato questo passaggio, perché De Gasperi viene spesso impropriamente utilizzato come riferimento, però De Gasperi poi nella letra dice sempre come il chirurgo, può fare solo il chirurgo, al massimo cambia la sala operatoria, o l'ingegnere può cambiare il politico, ma fa l'ingegnere, io posso fare solo il politico, quindi era come dicevamo prima un politico di professione orgoglioso di esserlo. Perché servono i politici? Lui era anche un politico, sempre il tipo si racconta, che riceve poi una letta da altri politici importanti, Sturzo in un caso, Dossetti in un altro, che a un certo punto gli chiedono ma insomma però tu devi nominare un po', io traduco, non è proprio così, devi nominare più democristiani, e lui risponde no, attenzione, il primo criterio è la competenza, se poi chi è competente, anche la nostra visione, il nostro sentire politico, tanto di guadagnato ma prima viene il Paese, questa era secondo me realmente la buona politica e se vogliamo fare questo salto che faccio sempre tra oggi e ieri, torno sempre al racconto di un amico di mio padre, anche lui del 26, che mi racconta, guarda com'è cambiato l'Italia, te ne accorgi se va nei consigli comunali, cioè una volta i ragazzi, i ragazzi migliori, quelli che andavano anche meglio a scuola o comunque che si impegnavano, avevano voglia di fare politica, facevano politica, oggi il ragazzo migliore che sempre più al massimo fa volontariato, nei consigli comunali c'era il medico del Paese, c'era il professionista, oggi ci sono i nominati, quindi questo è il grande vuoto civile che dobbiamo colmare, sapendo anche che abbiamo dentro di noi cose importanti che spesso dimentichiamo, voglio citare perché a un certo punto si è parlato dell'imprenditoria, si è parlato di un mondo che deve riscrivere le sue regole, ecco io ricordo perfettamente quando ero ragazzo, andai un giorno a Rione Sanità perché dovevo, a Napoli, facevo un incontro, incontravo grandi, diciamo così del passato, uno di questi era Mario Valentino che era, non è il sarto Valentino di Roma ma insomma uno che ha inventato qualcosa, nelle calzature per donna di un certo livello, questo uomo mi colpì da morire, a un certo punto lui mi disse che era venuto via dall'America, dagli Stati Uniti dove il datore di lavoro della Miller gli aveva messo davanti un libretto d'assegno in bianco, scrivi qualunque cifra e resti qui, lui disse no perché ti sembrerà strano, disse a me, a me New York sembrava una città noiosa, quindi io per essere creativo devo stare qua, c'era questa azienda bellissima, tutti i vetri, bene, gli eredi, l'azienda non è probabilmente all'altezza di prima, però quella creatività che abbiamo a Napoli, quella creatività che abbiamo sulla riviera del Brent appartengono, quella manualità, quella progettazione appartengono all'Italia, allora io sono convinto che c'è un grande mercato nuovo e lo racconto nel libro che è il mercato asiatico, i cinesi vogliono molto bene agli italiani, non è vero, i cinesi cercano degli italiani dei compagni di viaggio, quindi come vent'anni fa si è sceso di andare in America e si è conquistato al mezzo mercato, oggi l'impeditoria è chiamata a affrontare questa scommessa e a vincerla, attraverso il mondo si può vincere anche l'Italia. Un po' di speranza, non so se anche il professor Mammarella ci può dare, i prossimi vent'anni che ci aspettano saranno migliori di questo? Saranno difficili, possono essere estremamente stimolanti per tutti e se uscirà fuori quella scintilla che creerà un panorama politico diverso da quello che... noi ci troviamo di fronte a una scelta di fondo, o un governo dei tecnici, ma tecnici migliori di quelli attuali. Certamente Monti ha guadagnato la gratitudine del Paese per quello che ha fatto soprattutto sul piano europeo. L'altra soluzione alternativa a quella dei tecnici è quella di una serie di partiti che si mettono d'accordo, perché le grandi riforme non si possono fare da un partito o da un gruppo di partiti, richiedono evidentemente una compartecipazione di tutti. C'è stato un episodio che io vorrei ricordare nel 1995, proprio alla vigilia della bicamerale di cui si è parlato, cioè il congresso del partito del PDS, un anno dopo la segreteria di D'Alema. A quel congresso parlano Berlusconi e Fini, parlano brevemente. Ecco, quello poteva essere l'inizio della trasformazione verso un Paese normale. Purtroppo poi dopo la bicamerale è andata, come sappiamo, insomma. Allora, vediamo di non perdere altri vent'anni. Ringrazio i nostri ospiti, voi per averci seguito e naturalmente prima di lasciarvi i consigli per la lettura. Noi ci vediamo sabato prossimo. Buona giornata. Se dovesse consigliare un unico libro fra le sue ultime letture, quale sceglierebbe e perché? Sceglierei senza dubbio Pensieri lenti e veloci di Daniel Kahneman, che è un saggio divulgativo di psicologia cognitivo-comportamentale che spiega per quale motivo molto spesso, anche quando siamo convinti di essere razionali, non lo siamo. È uno di quei libri che ti aprono un mondo, ti fanno scoprire cose alle quali non avevi mai nemmeno pensato e apre un mondo, appunto. A me è piaciuto molto Il lupo e il filosofo di Mark Rowland. È la storia di un giovane professore ordinario di filosofia all'Università di Miami che un giorno vede un annuncio su un giornale che si vendono cuccioli di lupo e si compra questo cucciolo che poi diventa alto 90 centimetri algarrese e pesa 70 chili. Tra i due nasce una reciproca stima, un affetto profondissimo e lui si rende conto che il lupo in molte cose è superiore all'essere umano e poi c'è un finale estremamente toccante, estremamente commovente ma molto interessante per le riflessioni filosofiche veramente.